ciao a tutti io sono francesca e oggi video acquisti chiabi e alla fine del video vi metterò il fermo immagine di quello che ho speso e che si può vedere dall'applicazione allora ho preso questo questa felpa taglia 18 mesi ricordatevi che chiabi veste una taglia in meno quindi in realtà questo qui è più 15 mesi che 18 mesi ho preso questo ho preso un pochino di cosine ho preso lo stesso maglione però taglia sei mesi che quindi questo qui l'andrà bene già adesso poi alcune cose arrivano accettate come per esempio questa che adesso però io vado ad aprire perché voglio mettere a tutto paglia 18 mesi conviene fare acquisti adesso perché ci sono gli sconti sul sito quindi approfittatene 18 mesi praticamente degli aristocati con lo scritto in francese questo invece è un pigiamino invernale taglia 18 mesi e adesso alcune cose il prezzo non c'è ma comunque lo potete vedere dopo poi ho preso queste che sono vabbè tipo dei teli credo mi ispiravano perché sono tema giurassic world poi taglia sempre 18 mesi questo maglioncino qui l'unica pecca che ha le maniche corte non so bene cosa sia questo però non è blusa vabbè comunque paglia 18 mesi ho preso anche questo adesso io buco lì ma che dopo metto via non c'è scritto no sei mesi attenzione questo va bene già adesso sei mesi no scusate questo qui è 18 mesi mi ricordo perché mi ricordo così va da questo poi taglia 12 mesi a sto giro questo qua tt taglia 12 mesi troppo poco abbiamo finito anche questo qui taglia 12 mesi sono due pezzi allora questi due pezzi qui mini e adesso un di cotone e poi questo taglia 18 mesi e questa maglietta qua molto molto carina più una felpa che ha una mani perché è molto felpato questo cotone però mi piaceva e l'ho preso adesso io vi faccio il faccio vedere quanto speso e avevo detto questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao